Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Domani sera, ballando con le stelle, Barbara D'Urso sarà ospite nel ruolo di ballerina per una notte. Ma tutti gli occhi saranno puntati su Selvaggia Lucarelli, visto che le due sono acerrime nemiche da tempo, e insomma si prevedono scintille e scontri al veleno. Intanto, per preparare il terreno alla battaglia, oggi la Lucarelli ha lanciato una prima provocazione alla conduttrice. Sul suo profilo Instagram è apparsa una frecciata rivolta alla D'Urso, che in queste ore si sta preparando dietro le quinte per scendere in pista nel Dancing Show Rai. Scopriamo tutti i dettagli qui sotto. Selvaggia Lucarelli l'affondo a Barbara D'Urso in vista di ballando con le stelle. L'inimicizia tra Selvaggia Lucarelli e Barbara D'Urso nasce nel lontano 2011. Vivevo un momento personale molto difficile per la mia separazione, aveva spiegato la Lucarelli sul Fatto Quotidiano. Lei, Barbara D'Urso, sapeva tutto, perché qualche volta ci eravamo viste anche fuori dal programma. Le spiegai fin da subito che non avrei mai parlato in tv di mio figlio e della mia separazione. Poi accadde che un suo programma concorrente iniziò a rovistare nella mia vita privata, a dare informazioni false su mio figlio che era piccolissimo. All'ennesima puntata, in cui si parlò di me in mia assenza, nonostante le diffide, telefonai in diretta per chiedere che si smettesse di parlare in tv di mio figlio minore. E a quel punto entrò in gioco la D'Urso. Il giorno dopo ero ospite di Barbara D'Urso su altri temi. Prima dell'inizio del programma, lei si fece trovare in corridoio e mi chiamò con un'aria di rimprovero, ehi tu. Mi rimproverò duramente perché ero intervenuta nel programma concorrente e minacciò di invitare da lei la mia controparte. Le spiegai che stava parlando della mia vita, non di show. Non andai mai più ospite nei suoi programmi. Da quel giorno, in sostanza, la Lucarelli ha giurato vendetta a Barbara D'Urso e domani a Ballando avrà finalmente l'occasione giusta per attaccare la sua cerrima nemica, non appena sarà scesa in pista. Nel frattempo, giusto per non farsi mancare nulla, Selvaggia ha già lanciato una bordata social a Barbarella. L'affondo è apparso oggi all'interno delle sue storie Instagram. Alla vita in diretta? Ha scritto la giurata? Hanno mandato in onda le prove di Barbarella Ballando. Io le suggerisco mestamente di non mettersi mai più in preghiera, non ha portato benissimo. A corredo delle parole è apparso quindi un fermo immagine di Barbara, con le mani giunte verso il cielo. I fan di Ballando sono insomma avvisati.